Quindi dicevamo che con il ciclo lisogeno man mano che la cellula si duplica, si duplica anche il segmento di DNA virale che si è integrato nel genoma dell'ospite e in condizioni particolari questo ciclo lisogeno si può trasformare e diventare ciclo litico. Ad esempio gli herpes virus come l'herpes labiale, noi per chi ha l'herpes questo virus rimane integrato, meglio il genoma virale rimane integrato in cellule umane, in genere resta silente, quindi il ciclo lisogeno procede, il virus non si manifesta se non quando il sistema immunitario del nostro individuo si indebolisce, ad esempio in seguito a forti periodi di stress, quindi lunghi periodi stressanti, indebolimenti dovuti ad altre patologie o l'invecchiamento, ad esempio ci sono virus sempre di questa famiglia che possono dare la varicella in alcuni periodi della nostra vita, oppure possono spostarsi e dare origine ad esempio a polmoniti di tipo virale o a quella patologia conosciuta come fuoco di Sant'Antonio che colpisce, quindi una volta che l'individuo si è indebolito da un punto di vista immunitario, questo virus attiva il ciclo litico che abbiamo già studiato, per riprendere poi dopo essersi abbondantemente moltiplicato il ciclo di tipo lisogeno, una volta che il sistema immunitario dell'ospite riesce a contrastare lo sviluppo virale. Qui c'è un'immagine un pochino più dettagliata del ciclo litico, qui vedete c'è un DNA, un genoma virale, quindi il nostro DNA virale, qui c'è il promotore e qui c'è la RNA polimerasi che andrà a trascrivere, questa è ovviamente dell'ospite del batterio in questo caso, andrà a trascrivere dei geni precoci, quindi inizialmente abbiamo visto si preoccupa di bloccare la trascrizione batterica, impedire al batterio di far partire meccanismi di difesa, altre proteine si occuperanno di replicare il genoma virale e poi altre, di fare partire la trascrizione dei geni tardivi, cioè quelli del capside che circonderà il genoma virale e degli enzimi litici che romperanno le membrane cellulari dell'ospite permettendo al ciclo litico di concludersi. Quindi vedete c'è anche una scansione temporale che fa sì che tutto venga costruito e gli eventi avvengano al momento corretto. Adesso in questa lezione introduttiva vediamo alcune generalità, andremo nei dettagli quando ci occuperemo in maniera più specifica delle patologie di tipo virale. Un virus molto famoso è il virus dell'influenza, ad esempio l'influenza di tipo A, che colpisce tipicamente l'uomo con degli effetti relativamente gravi nelle persone sane e giovani. Appartiene agli orto mixovirus, questo virus ha questo tipo di ciclo che adesso andiamo a vedere. C'è un envelope, un glicoproteico, un capside proteico e un RNA virale a filamento negativo, poi vediamo che cosa vuole dire. Queste glicoproteine riconoscono dei recettori sulla membrana plasmatica, ingannano questi recettori e il virus viene endocitato. Una volta endocitato, l'envelop virale e la membrana del fagosoma si fondono. Da questa fusione c'è la liberazione del contenuto del capside, che degenera e libera l'RNA virale. Questo RNA virale, così com'è, non funziona ancora. Deve essere trasformato in un altro filamento di RNA, quindi deve essere duplicato. È una duplicazione del DNA che avviene ad opera di una RNA polimerasi RNA dipendente. Vi ricordo che il fenomeno della trascrizione, che non è questo, avviene ad opera di una RNA polimerasi DNA dipendente. Quindi ha bisogno di un filamento di DNA per poter trascrivere l'RNA, messaggero, transfero o quello che è. Ora, questo nuovo messaggero può essere utilizzato sia per arrivare ai ribosomi e produrre, quindi, proteine, sia per continuare la duplicazione, quindi fare n copie di RNA virale. Questa strada fa produrre le proteine necessarie, che sono le proteine del capside e le glicoproteine che verranno messe poi nell'enveloppe. Una volta assemblato, qui vedete, reticolo endoplasmatico rugoso, le varie vescicole cisterne del Golgi, la vescicola finale che va in membrana e diventa parte integrante della membrana, cosa che le vescicole golgiane che devono andare in membrana cellulare per, ad esempio, esocitare qualcosa, fanno normalmente, c'è un ciclo di membrana in ingresso e in uscita continuo. A questo punto il capside si rivolgerà con all'interno l'RNA virale, si rivolgerà verso quella zona di membrana che contiene le glicoproteine specifiche. Si avrà un esocitose in cui il capside con dentro l'RNA virale uscirà, ci sarà una formazione di vescicola, quindi si riforma esattamente il nostro virus orto-mixo con l'emveloppe, le glicoproteine che abbiamo già visto, il capside proteico e l'RNA e anche, ovviamente, dimenticavo, l'RNA polimerasi e l'RNA dipendente che si deve portare in giro. Quindi, vedete, questo virus è un virus che non si inserisce, non inserisce il suo codice genetico all'interno del mio nucleo, quindi una volta che è sconfitto sparisce, sparisce fino a che non ritornerà la stagione successiva. Ovviamente queste cellule vengono danneggiate, non possono reggere e quindi le cellule ospiti, le cellule attaccate, e quindi questo provoca i danneggiamenti tipici influenzati. E soprattutto c'è una risposta che abbiamo visto nel sistema immunitario, massiccia addirittura a volte, eccessivamente massiccia, risposte infiammatorie come nel caso di Covid-19, che è un coronavirus, che danneggiano ulteriormente il sistema. Quindi il virus danneggia, la risposta immunitaria a volte supera certi limiti e questa stessa danneggia. Qua ci sono alcuni dettagli del nostro ortomixovirus. Le moagglutinine sono delle proteine particolari, sono trimeriche, direi, che hanno una funzione nel riconoscimento della cellula ospite e, come dice il nome, sono in grado anche di agglutinare, quindi unire fra di loro i globuli rossi. Il virus dell'HIV, di cui parleremo estesamente in una lezione, direi monografica, è un retrovirus, cioè è un virus che possiede un RNA, possiede un enzima che si chiama retrotrascrittasi e questa enzima è in grado di leggere l'RNA e di trascriverlo in DNA. Quindi una DNA polimerasi, RNA dipendente. Noi non possediamo questa possibilità di retrotrascrivere, quindi non è un enzima assolutamente presente negli esseri umani, ma è un enzima portato dal virus stesso. In questo caso che cosa vediamo? Vediamo che il virus arriva, c'è un rivestimento glicoproteico, in questo caso, ovviamente diverso da quello precedente, ma il principio è lo stesso, si porta dentro due copie di RNA retrovirale e l'enzima la trascrittasi inversa o retrotrascrittasi. Il capside proteico c'è il riconoscimento, abbiamo detto in una lezione preferenziale, dei linfociti T, helper o CD4 o anche di macrofagi. C'è un ingresso dovuto alla fusione della membrana virale, dell'emvelope virale con la membrana cellulare, la trascrittasi inversa inizia ad operare, produce un filamento di DNA complementare che verrà poi duplicato e si integrerà una volta entrato nel nucleo con il genoma della cellula ospite. Questo è un problema, perché questo DNA, che è parte, ovviamente, integrante del virus, è diventato ora anche parte integrante della cellula. Quindi la duplicazione cellulare farà sì che anche il DNA virale si possa duplicare. Ovviamente adesso avremo una produzione di messaggeri a partire dal DNA virale e questi messaggeri faranno sì che si producano le proteine virali necessarie, ad esempio quelle del capside, ad esempio quelle dell'emvelope e la retrotrascrittase. Verranno prodotti i filamenti di RNA virale e tutto questo verrà assemblato in una maniera similare a quella vista prima, arriverà il tutto nella zona di membrana dove sono presenti queste glicoproteine specifiche e verrà formato un nuovo virus, una nuova particella virale completa che andrà ad attaccare un altro linfocita T4 o un altro macrofago. Ovviamente nel frattempo questa cellula se non è morta per lo stress o se non è stata eliminata dall'immunitario si continuerà a portarsi dietro il DNA virale quindi essere fonte, diciamo, serbatoio e fonte di infezione. Qui ci sono degli aspetti, la GP120 e la GP41 che vedremo successivamente. Sono due proteine molto interessanti, molto importanti ai fini dell'adesione e il riconoscimento della membrana della cellula CD4 o macrofago. Uno dei casi più studiati, anche perché ha avuto un impatto sulla popolazione non indifferente, è il caso del vaiolo di cui vi parlerò nella prossima lezione.